In questo modo ancoraggio, vedete, non tocca da nessuna parte la patelletta, ho solo il pollice sottometto e rilascio la mia freccia, senza avere nessuna interazione strana con il mento da parte della patelletta. Non ci deve essere, il senso cinestetico e la propria percezione mi permettono di avere un ancoraggio ripetitivo, come abbiamo visto mille e mille e mille volte.